...è solo senza te, quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò, ma ti voglio alcunerà, le chiederò. E passando l'altro tempo, non ci nasceremo ma, siamo figli e per subito, forse un giorno esploderà, una luce che succederà. Grazie, la vostra vicinanza è molto importante per noi, a quelli più importanti sono i calciatori. Voi vogliamo difendere i calciatori, voi se c'è qualcuno che è, per forza, da te, in generale bisogna difendere i calciatori, sono loro che non lo sa, voler bene i calciatori, voi siete forzati, tanta roba, se si sfavisce. Grazie, 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 grazie.